La 25esima edizione del Congresso dell'Unione Avvocati Europei si occuperà di tutela delle situazioni giuridiche nel diritto europeo, con aspetti generali su quanto previsto dall'ordinamento comunitario, sui diritti nei procedimenti amministrativi e per la tutela nei processi. Si alterneranno autorevoli personalità giuridiche dell'Unione, con relazioni che saranno coordinate da Professor Paolo Mengozzi, Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, dal Dottor Pasquale Delise, Presidente del Consiglio di Stato, e dal Professor Giuseppe Tesauro, membro della Corte Costituzionale. L'organizzazione è stata curata dalla Delegazione regionale dell'Unione Avvocati Europei per l'Italia Centro-Est, rappresentata dall'Avvocato Pierluigi Vasile, che ascoltiamo. È il 25esimo Congresso dell'Unione Avvocati Europei, quindi tanti anni sulla breccia di questa associazione di avvocati, in tutta Europa. Siamo onorati di aver potuto avere a pescare questa manifestazione che abbiamo voluto come Delegazione Italia Centro-Est dell'Unione Avvocati Europei, perché riteniamo che la città meriti un'organizzazione e la presenza di tanti avvocati. Si tratterà di un argomento importantissimo, la tutela delle situazioni giuridiche in Europa, quindi di diritto comunitario, ad ampio spettro, perché rientreranno negli argomenti il diritto civile, l'amministrativo, il penale, il tributario. È stata un'organizzazione molto complessa, perché ci saranno quasi tutte le delegazioni europee dell'Unione Avvocati Europei, quindi da tutti i paesi d'Europa, anche dall'est, e all'incirca 200 avvocati provenienti dall'estero e poi tanti altri dall'Italia e ovviamente anche da Pescara.